Bene, buonasera a tutti. Prego, accomodatevi, diamo il benvenuto a Peter Cameron che stasera viene a dialogare con Matteo Bibianchi, giornalista, scrittore, blogger e a parlare del suo ultimo libro pubblicato da Adelphi con Glyn. Credo che peraltro molti di voi che sono qui abbiano visto un giorno questo dolore che sarà utile, il film appunto di Faenza, devo dire che dobbiamo dirlo, il romanzo era assai più bello e quindi... C'è la zia di Faenza, non dovevo dirlo, vabbè, però insomma noi pensiamo che il libro fosse assai più bello. Benissimo, do a te la parola, Matteo, grazie di essere qua. Bene, buonasera e benvenuti. Io sono molto contento di presentare il nuovo libro di Peter, noi ci siamo già conosciuti, abbiamo già fatto altre presentazioni insieme, e quindi sono contento perché mi chiedono spesso di fare presentazioni ma quando è un autore che mi piace così tanto ovviamente ha un altro valore. Il nuovo libro di Peter è un libro sorprendente per chi conosce i suoi libri precedenti perché rappresenta un salto rispetto alla sua produzione, un salto tematico diciamo. Il libro è ambientato nell'Inghilterra degli anni 50 e già questa è una cosa abbastanza sorprendente perché noi siamo abituati a conoscere Peter come un autore profondamente contemporaneo e quindi il fatto che abbia scritto una storia che è lontana da lui sia geograficamente, ambientandola in Inghilterra, sia nel tempo, cioè negli anni 50, è già una curiosità riguardo a questo libro. Inoltre è un libro che ha delle profonde influenze o perlomeno una forte fascinazione nei confronti del gotico e le atmosfere che si respirano in questo libro sono appunto atmosfere abbastanza cupe, grottesche e i personaggi sono personaggi che sorprendono il lettore perché sembrano sempre nascondere qualcosa e la figura attorno a quale ruota il romanzo è Coral Green che è un'infermiera, che è un'orfana e letteralmente non ha un posto dove vivere perché vive nelle case dove viene assunta per lavorare, generalmente appunto per assistere pazienti come nel caso di questo dall'inizio del libro in cui le viene assunta da un maggiore per assistere la madre morente. Non voglio raccontare molto il libro, non voglio fare degli spoiler nei confronti del romanzo, però alcune cose dobbiamo dirle per introdurre questa conversazione e le diremo poi man mano nel corso dell'incontro, però io volevo comunque cominciare da questo, cioè volevo cominciare a chiedere a Peter come mai ha deciso di scrivere una storia così in qualche modo lontana da lui e se è veramente lontana da lui questa storia. First I would just like to say I'm so happy to be here in Turin this evening in such a beautiful location and to thank Matteo for taking his time to speak with me about this book. Like all my books, the genesis for this book came from my subconscious, it's not something I deliberately set out to write about and when I look back I think the impetus for the book was an image I had of a woman, a young woman standing outside of a house in sort of gloomy weather and it just seemed to me that she was in England and for some reason it seemed to be the 1950s and as I started to think about her I thought she might be a nurse and then I wondered well who was inside the house and so from out of that very simple image, you know, the whole book in a way sprung. Innanzitutto permettetemi di dire che sono molto contento di essere qua a Torino e di essere in un posto bello come questo. Vorrei anche ringraziare Matteo per il tempo che passerà oggi a presentarmi, per aver trovato questo tempo. Per rispondere alla sua domanda, come tutti i libri che io ho scritto, la genesi di questo libro va rintracciata nel mio subconscio. Non è qualche cosa che io abbia deciso deliberatamente, è qualche cosa che è sorto così, da dentro, un'immagine. Mi è venuta un'immagine di una giovane donna, di una giovane donna che stava in piedi al di fuori di una casa. Questa casa era un po' tetra, mi pareva che la casa fosse in Inghilterra, mi pareva che fossero gli anni cinquanta. A quel punto ho incominciato a pensare a questa giovane donna, ho pensato cosa ci fa lì, che cosa sarà? Sarà un'infermiera, che cosa succede dentro questo libro? Insomma da quest'immagine è nato il libro. Quando ho guardato la città, ho pensato che ci sono altre cose che motivano questo libro. E io penso che ho lasciato a pesare un libro che sono costruito, non solo da una nostra situazione, non solo costruito da loro esitanzi o inabilityi con altri altri, ma anche costruito di una società di solito, di una società di restriccione sulle. and so therefore setting it in the 1950s seemed like a good choice of a time when society was less accepting or forgiving of people trying to live unorthodox lives and then it's also interesting to me because then I remember in my second novel The Weeknd one of the characters in The Weeknd they're talking about literature and the character says well novels there's no reason to write novels anymore because the questions that novels really could address they're not questions anymore and she goes on to say great novels deal with adultery or people being trapped in marriages or the sublimation of homosexuality and now that people can get divorced and that gay people can live openly there's no reason to write novels anymore and I don't really agree with that but I do think that suppression is an interesting thing for novelists because it makes people it makes people work to find happiness and to find themselves I guess which is what I think happens in this novel when I look at the book when I look back and I look at the book and I look at the various things that I have brought to write it it's not just this image there are also other things for example there are some constraints that the human nature impone or that the human nature impone that they can bring to a certain or a certain incapacity to have a rapport with another but there are also impositions that come from society and this is one of the reasons why I decided to put it in the 1950s because in the 1950s it seemed like a good landscape where there were blocks or diviettes of the type of societary that the 1950s were a period in which the society pardoned of less the behavior non-ortodossian 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 Weekend un altro libro che ho scritto c'è un personaggio che a un certo punto dice non c'è più motivo per scrivere dei romanzi perché i problemi che c'erano non esistono più le domande che c'erano non hanno più bisogno di risposta per esempio l'adulterio o la sublimazione dell'omosessualità non c'è nessun motivo ormai perché se uno vuole c'è il divorzio e anche l'omosessualità può essere vissuta in maniera più aperta non sono d'accordo esattamente con quello che ho fatto dire a questo personaggio tuttavia devo dire che la soppressione di alcuni di questi di questi diritti o di queste possibilità sono molto utili per chi scrive un romanzo perché questo vuol dire che in una situazione di soppressione di diritti le persone lavorano si sforzano per raggiungere la felicità e per trovare se stessi e questo è quello che succede anche all'interno di questo romanzo tu sei in genere sei considerato uno scrittore d'atmosfera è una delle cose che leggo più spesso perlomeno le critiche italiane poi non lo so in America addirittura penso che nel retro di copertina o nella seconda di copertina di questo dolore un giorno di questo dolore ti sarà utile c'è questa definizione cioè Peter Cameron descrive lo spirito del tempo allora la mia domanda è se tu sei un autore appunto che descrive lo spirito del tempo non è rischioso per te descrivere lo spirito di un altro tempo I suppose that I feel empowered to write a book set in the 1950s because I don't think of myself as describing the spirit of the times as I did not feel I was doing with someday this pain will be useful to you in both cases I felt I was writing a very specific story about individuals who lived in this very specific time and place and I as a writer I'm always aware of how interested I am in people and not in society I guess or not in culture in a way or in politics so you know I'm always focusing just on the individual and I think that then lets me I think if I was aware of what you say of sort of trying to capture this spirit of the times I would be terribly inhibited and not right at all I think I think I think I've received an empowerment that is to have the capacity and the possibility of writing in the years 50 I don't I feel a person that represents the spirit of the times in a day this dolor you will 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 you I have written of individuals that were in a time in a place I don't like I write I write I write of people I don't write I write I write I write of politics I write directly of the individual if I was aware of me I would be of the spirit of the time I would be and I would be I would be I would be in this book I would be however I have the impression that the important event that that I have in the absence of the protagonists in the sense that succedono delle cose anche gravi cioè c'è un delitto anche abbastanza efferato ci sono divorzi ci sono matrimoni succedono tante cose però in realtà il lettore ne viene a conoscenza sempre dopo e appunto non voglio dire molto però questo forse lo possiamo dire la protagonista viene chiamata per assistere a una donna morente la quale muore quasi immediatamente e nel suo giorno libero quindi anche questo evento iniziale avviene in assenza volevo sapere se questa è una scelta precisa e se si serve appunto proprio allontanare in qualche modo i protagonisti da questi grossi eventi per concentrarti di più su quelle che sono le loro sensazioni e non tanto raccontare appunto gli eventi in cui sono protagonisti attraverso attraverso E' interessante, non mi ero reso conto del fatto che i personaggi fossero assenti nei momenti in cui si svolgevano gli eventi principali. Forse deriva dal fatto che mi interessa più la risposta dei personaggi agli eventi che non gli eventi stessi e quindi se faccio svolgere in qualche maniera gli eventi fuori dalla scena, off stage, è più possibile focalizzare sulla loro reazione. E' un po' che non è molto interessante che ci sono più interessati in quanto è in quanto è interessa in quanto è interessa in cui si è molto più interessato in quanto è interessa in quanto è interessa. Mi rendo conto che questo è uno dei motivi per cui io all'inizio della mia carriera non pensavo che avrei potuto scrivere romanzi, proprio perché sono meno interessato a ciò che succede fuori rispetto a ciò che succede dentro i personaggi ed è difficile scrivere un libro interessante che piaccia ai lettori e alle lettrici senza parlare di ciò che si svolge, senza un po' d'azione, di eventi e forse questo è il modo in cui ho risolto il problema cercando di descrivere ciò che succede a lato per potermi poi focalizzare su tutto quello che succede all'interno dei vari personaggi. Mi sembra anche che ogni tanto tu scelga di rappresentare... cioè, allora, l'elemento forse principale che caratterizza Coral Glynn è il fatto che è una persona in qualche modo perennemente indecisa. lei ha avuto chiaramente una vita difficile, è orfana, ha l'unico fratello che aveva, è morto e così via quindi evidentemente è una provata alla vita però di fronte ai vari eventi che succedono in questo libro lei è sempre perennemente, come dire, scossa e incapace di prendere delle decisioni che le circostanze richiedono e mi sembra che tu abbia rappresentato molto bene questo suo carattere con una scena fisica cioè il fatto che lei compra un vestito e poi lo riporta e perché non è convinta di questo vestito e poi se lo riprende ancora cioè l'idea, questo vestito per me rappresenta esattamente quello che è il personaggio è vero, me lo sto sognando Sì, io penso che il tutto episodio con la dressa è un esempio molto buon esempio della sua incompetenza con la vita I see Corle as a character who is placed in very difficult, complex circumstances which I think we all find ourselves in at times but she has no experience to draw on she's lived a very sheltered life she's really had very few experiences she has no family she's had no relationships really with other people so she just doesn't know how to behave or what to do in any particular circumstance and I think the book is about her learning about life and learning that you can do things I see her as a character who is very afraid of doing anything because she's afraid of doing the wrong thing and in the past everything she's done has sort of gotten her into trouble so her philosophy is sort of I just won't do anything and I'll stay safe but of course that's not a good way to lead one's life and I think that's what she discovers in the book and I think the dress is a good example of that where she buys a dress that she can't put on herself and so she returns it only to learn that well it's okay to ask somebody to help you put on your dress Yes, the episode of the vestido I think it's a good example of the incompetence with which this person lives it's an incompetence of living it's a person who is living a life full of difficulties and that he can't get from the experience as we do most of us because many of us are living in difficult situations for solving these difficulties he has lived a life very protected he doesn't have a family he doesn't have a rapport he doesn't have a previous knowledge so if we want the romance is the story of his own his own experience he's a person who's afraid of doing things he's afraid of mistakes in the past he's taken decisions that he has caused some pain and so in the end la sua filosofia è diventata quella di non fare nulla la sua approccio alla vita è stato quello di rimanere lì ferma mentre mano a mano scopre che le cose possono essere diverse tornando all'episodio del vestito compra un vestito e poi lo riporta perché scopre di non poter indossare di non poter chiudere le asole di questo vestito da sola e che avrebbe bisogno di qualche d'una poi in realtà va a riprendere il vestito perché ha scoperto che è possibile chiedere a qualche d'uno di darti una mano per allacciare il vestito senti allora comunque in effetti dalle cose anche che stiamo dicendo e dalle cose anche che tu hai ammesso è abbastanza evidente che tu non sei esattamente interessato al plot così come perlomeno come insegnano nelle scuole di scrittura cioè da questo punto di vista l'alunno Peter Cameron sarebbe sonoramente bocciato in una scuola di scrittura però però c'è una cosa che tu riesci a fare benissimo secondo me ed è quella di fotografare i personaggi anche quando appaiono per pochi istanti e renderli in qualche modo memorabili cioè per esempio in questo libro la figura di un fiorista che non ha nessun ruolo nel resto del libro semplicemente lei a un certo punto entra a questo fiorista eppure in questa piccola scena che tu racconti tu riesci a rendere questo personaggio non so come memorabile cioè io ricordo questo come uno dei personaggi fondamentali del libro mentre in realtà non ha praticamente nessun ruolo nel libro allora la mia domanda da scrittore molto elegantemente è ma come cazzo fai? well this is just between us because I I feel a little like I shouldn't be sharing this but actually the guy in the flower shop when I when I had her enter the flower shop and interact with him I thought he might come back later in the book and I actually thought the character Coral moves to London and the second half of the book takes place in London and I thought I think in the back of my mind oh she's going to re-encounter the guy from the flower shop and then that didn't happen and so then I thought well maybe I should go back and take him out of the book because you know he's really not he hasn't earned his space and he's sort of an extra character but I didn't because I I sort of liked him I thought he did some other things in the book and I liked he's the first person that Coral meets in the book that she feels is friendly to her and so it's sort of a turning point in the book where she suddenly meets somebody that she feels comfortable with and so I thought that was sort of enough to justify his presence in the book a lot of different but I thought that maybe I could make this person but I didn't have happened this thing so I thought maybe I'll go and I'll go and I'll go and I'll go and I'll go from the story because it's not that he's got he's got his place but in reality I liked this person because it's the first person that Coral meets that is amicable that is that is that is that is that is and this that determines una svolta nella vita di Coral ho poi pensato che di per sé questo giustificasse l'esistenza di tale personaggio e vorrei aggiungere in coda che penso che lei lega troppo bene sia un lettore troppo attento e quindi adesso ho paura e quindi questa è l'ultima presentazione che faccio Peter Camero ok senti uscendo un attimo dal singolo libro Coral Glein volevo parlare con te più in generale del fatto che i tuoi libri hanno evidentemente molto successo in Italia e tu sei un attore molto amato io ti ho detto precedentemente che a me questa settimana è successo che quando dicevo ah giovedì sera sono tornato Peter Cameroon e gli dicevo Peter Cameroon come se avessi detto vado da Madonna ed è una cosa che non succede mai quando parlo degli scrittori cioè c'è in effetti nei tuoi confronti in Italia un'attenzione un affetto che sono tangibili volevo chiederti se tu ti sei fatto un'idea del perché l'Italia ti ami cosi tanto no no io ero spero che tu avessi esplenderti per me no è un mistero per me ma qualcosa che mi sento molto felice e piaciuto e honore e non non lo capisco e non posso solo dire Coral Glynn fu fu recentemente pubblicato negli Stati Uniti e ho fatto un piccolo tour non comparabile a tutti con i miei in Italia ma ero in Seattle Washington reading at a very nice bookstore there and two people showed up to the reading and I was actually reading with another person so it was actually one person each no anzi speravo che lei potesse spiegarmelo questo mio questo mio successo illustrarmi le motivazioni è un po' un mistero per me sono molto contento e anche molto onorato del fatto di aver così tanto successo in Italia ma non riesco a spiegarmelo quando per esempio adesso è uscito Coral Glynn negli Stati Uniti ho fatto anche lì un giro di presentazione ma non come quello che sto facendo in Italia un giro molto più piccolo per esempio ero in una libreria Seattle Washington e io e un altro stavamo leggendo dei pezzi e c'erano due persone nel pubblico una a testa quindi è molto diverso senti una volta ho letto un'intervista a Woody Allen e lui diceva sul fatto che i film di Woody Allen sono più di successo in Europa rispetto che negli Stati Uniti e che questa cosa aveva in qualche modo lui diceva che questa cosa aveva influenzato il suo modo di fare cinema perché sapeva ormai che aveva un pubblico di riferimento che non era lo stesso di prima e che certi magari riferimenti o certo humor eccetera anche se in America non l'avrebbero colto cioè non l'avessero colto in America l'avrebbero colto in Europa sapere di avere un altro pubblico in Italia in qualche modo ti influenza nello scrivere o non ha alcun cioè non so o magari ti ispira il fatto di avere un pubblico lontano e diverso rispetto a quello che ha in America no no because the simple answer for that is I write very selfishly and I write I write for myself and I write the books that I feel motivated or the books I need to write so I'm not thinking about about who's reading them you know anywhere but when you mention Woody Allen it occurs to me that Woody Allen in a way makes very European films in that he makes films in which people talk to one another and a lot of the film is dependent upon dialogue and which is not typical of American films and I feel the same way I'm interested in books where people talk to each other where people talk about ideas where people talk about morality where people talk about relationships which are all things that I think for some reason I don't really understand why but European readers and I guess in particular Italian readers seem to appreciate which you know American readers don't No in reality no non penso al pubblico lontano se devo dare una risposta molto semplice e diretta è che io scrivo in maniera molto egoista e scrivo per me e quindi nei libri che io scrivo io non penso a chi li leggerà né vicini né lontani quando dice di Woody Allen Woody Allen si fa dei film che sono diretti ad un pubblico europeo soprattutto perché parlano i personaggi perché c'è molto dialogo nei suoi film cosa che invece non c'è spende i film che sono tesi ad un pubblico americano anche a me piacciono i libri in cui si parla in cui ci sono le idee in cui si discute di moralità di rapporto e questo forse fa sì che più lettori elettrici europei e in italiani in particolare apprezzino i miei libri cosa che mi fa molto piacere ci sono alcuni tuoi libri che non sono stati ancora tradotti in Italia che volevo sapere un po' me l'ho anticipato a cena però volevo sapere se tra questi libri che non sono ancora usciti c'è qualcuno cui tu tieni particolarmente che vorresti che uscisse Alfonso Pio che in Italia In Italia actually now with the publication of Coral Glynn Adelphi decided that they would also publish two earlier novels of mine which one has been translated and one will be translated and I'm very happy about that because there are two books that I like that I think are again like all my books I feel like I guess è una cosa curiosa per me che italiani keep buying my books perché i feel like all my books are very different from one another quindi quando Cella Sera di Rata e poi abbiamo pubblicato Someday This Pain Will Be Useful To You i thought nobody's going to buy that book perché it's about a kid it's a totally different book and I feel the same way about Coral Glynn and I feel the same way about these two earlier books The Weeknd and Andorra they seem to me very different but now I have much more confidence about Italian readers being able to embrace books that are in some ways very similar but in some ways very different ma no, in realtà adesso con la pubblicazione di Coral Glynn La Delphi ha deciso che pubblicherà altri due miei libri precedenti uno è già stato tradotto e l'altro no io sono molto contento perché sono due libri che mi piacciono moltissimo tutti i miei libri mi piacciono ma quella cosa che trovo molto curiosa è il fatto che gli italiani continuino a comprare i miei libri sebbene i miei libri siano molto diversi tra di loro cioè Quella Sera Dorata e Un giorno questo dolore ti sarà utile sono due libri molto diversi e sono altri sì molto diversi da Coral Glynn sono anche diversi da Weekend e Andorra a questo punto però non mi preoccupo più nel senso che mentre prima pensavo hanno letto questo libro magari non gli piacerà quest'altro perché è molto diverso adesso mi sono fatto l'idea che il pubblico italiano abbia la capacità di leggere questi libri e seppure diversi che sono molto uguali ma molto diversi tra di loro e quindi mi sento più sicuro beh questa lo dico perché è una curiosità che in pochi sanno tu hai una micro casa editrice tua per la quale pubblichi delle cose curiose vuoi spiegare al pubblico peraltro con una scelta veramente strong diciamo pubblichi solo 10 coppie di ogni libro che lo rende degli oggetti di collezionismo sfrenato per il pubblico italiano ma ci racconti che cos'è questa questa esperienza che tipo di libri pubblichi con uno dei libri pubblici i have a little press it's called Wallflower Press and I started it about two and a half years ago and it was right when as I realized it was right when e-books were starting to appear and actually to dominate the publishing scene and I think as a writer I was concerned because I love books as objects I love books as books and also I have a curious life as a writer because I don't write about 50% of my time I don't write either I'm stuck or I'm in between books and so I spend a lot of time not writing and that makes me sad I feel like I'm only sort of half alive when I'm not writing and working on a book so making books was this alternative activity it involved me with books in a different way in a more physical way but it let me do something creative something that I love doing that wasn't dependent on me writing the books it was about actually physically making the books which I do I design all the elements of the book and sew them and put them together and it's just something I love to do and I decided you know to do it in a very very small way Si, si chiama la Wallflower Press l'ho iniziata circa due anni e mezzo fa era un periodo in cui c'erano tantissimi e-books che facevano le loro comparse e sembravano, come è successo dominare il mercato e come scrittore ero preoccupato perché come scrittore io amo anche il libro in quanto oggetto amo i libri in quanto libri io passo circa 50% del mio tempo a non scrivere o perché sono tra un libro e l'altro o perché è un momento in cui non riesco a scrivere e non mi sento molto felice mi sento preoccupato in questo momento in cui non sto scrivendo e allora ho deciso che avrei riempito questo tempo fabbricando, facendo un libro mi sono quindi trovato a pubblicare il libro nel senso più fisico della parola cioè produco il libro e decido io il tipo di design vedo tutto l'aspetto creativo e fisicamente poi lo stampo e lo cuccio e quindi questi libri vengono fatti in piccole quantità e sono un processo creativo and what about c'è il contenuto di questi libri I just, the books are small and so I just look for texts some of it is stories that I've written some of them are stories friends of mine have written particularly favorite stories of mine that friends have written some of them have never been published some of them have been and then I also just publish little excerpts from things that I love just as a reader I published a selection from the journals of Denton Welch who's a writer I love very much and his journals are extraordinary and I'll probably be arrested for doing that since I didn't get the rights but since I only made 10 copies I felt like it was safe and my most recent book that I just finished I was telling Matteo is I love portrait paintings and I collect portraits and so I did a book of 10 of these portraits paintings that I have of people I have no idea who they are but I wrote little biographies for each of one so it's a book of portraits and exploration into who these people might have been I'm thinking of I haveοw that I have done I've read that I have read because they have read that I have read that I like that I have I have So che mi arresteranno perché ho pubblicato degli estratti dal suo diario senza avere diritti d'autore, tuttavia l'ho pubblicato in dieci copie, quindi penso che sia abbastanza difficile che mi arrestino. Ma un altro per esempio è, a me piacciono moltissimi i ritratti, mi piacciono la pittura e mi piacciono i ritratti, ho dieci di questi ritratti di persone che non conosco, che non so assolutamente chi siano, non ho idea chi siano queste persone ma in uno dei miei libretti ho pubblicato dieci biografie che ho legato a questi dieci ritratti, immaginandomi chi avrebbero potuto essere le persone di cui avevo ritratti. Senti, una volta noi abbiamo fatto colazione insieme quando eri a Milano, tra l'altro eri ospite nell'unico albergo a sette stelle d'Italia, quindi io grazie a te sono entrato in un sette stelle e mentre facciamo colazione stavamo parlando, stavamo facendo discorsi tipo cosa stai scrivendo eccetera eccetera e tu mi hai detto questa cosa, ho iniziato il libro nuovo e poi hai detto di solito ci metto due anni a scriverlo ma questa volta sarò più veloce perché ho tutta la storia in testa eccetera, poi dopo sei stato zitto un attimo e fa, no lo dico tutte le volte ma poi tutte le volte ci metto due anni, volevo sapere se hai cambiato il tuo ritmo o se comunque rimani con... A due part answer to that question, and the first is never stay in a seven star hotel. It took me about an hour to go to bed every night because turning out the lights was so complicated, there were so many different lights and light switches, it was sort of a nightmare. But yeah, every book, whenever I start a book I think, oh this book is, I know what I want to do, it's going to take me two years to write and then inevitably it takes me much longer, usually five years to write. And that's because the book that I first conceive is never the book that I write and I don't know why that is, but the book always... I think partly it's because I always have very ambitious ideas for my books and I think, oh I'm going to write a book like a Jonathan Franzen book or a book that's really ambitious and big. And so I, you know, like this book Coral Glynn was going to be a book of several different stories, like two different novellas, there was going to be a play in it and it was all going to be brilliant in some way and it just turned into a mess. So then I kept taking things out, taking things out and I was left with a very simple novel which is what I write, but it took me a long time to find out that was what I wanted to write. La mia risposta sarà composta di due parti. La prima parte è questo, non state mai in un albergo a sette stelle, ci mettevo un'ora per riuscire ad andare a letto la sera perché lo spegnimento delle luci era talmente complicato che giravo per la stanza in una specie di incubo e ci voleva, come dicevo, un'ora prima di poterle spegnere. La seconda risposta è quella che riguarda quanto tempo ci vuole per scrivere un libro. Di solito io mi dico due anni o mi dico qualcosa del genere, invece ci metto cinque anni, ci metto molto più tempo perché il libro che io ho in mente è diverso dal libro che poi scrivo. Non so perché questo succeda, per esempio ogni tanto mi dico adesso scrivo un libro molto grosso e molto ambizioso, un po' come quelli di Franzen e invece poi non succede così. Per esempio anche Coral Green dovevano essere due novelle, una commedia in mezzo, un libro molto lungo, alla fine invece è diventato un pochettino un casino ed è diventato un romanzo semplice, un unico romanzo che è quello che poi volevo io fin dall'inizio ma che ho ottenuto tagliando dei pezzi dal libro originale per poi scoprire che il romanzo era quello che io volevo scrivere. Senti, una domanda che credo sia abbastanza evitabile, il tuo rapporto con i film tratti dei tuoi libri? I leave it all to you. It's interesting to me, I guess I'm sort of fascinated in a way because I think so many movies are made from so many books, from novels and yet I think the two are so different from one another and I think good movies do something which good books cannot do and vice versa, I think good novels do something that movies can't do at all and I always try and write books that work as books, in fact Andorra, one of my books I set out writing it and I wanted to try and write a book that could never be a movie, it was so sort of dependent on language which sort of disappears in a movie, but nevertheless three of my books have been made into films and and each time I've been disappointed and I think that's only to be expected because I think as a writer part of my process of writing is to always visualize everything so when I write a book I feel like I'm the director, I feel like I'm the costume designer, the scenic designer, the editor, the lighting designer and so I totally control the whole book and can make everything happen exactly as I want it to happen, if I want it to rain, it will rain and if I want a scene of a thousand people, I can have a scene with a thousand people and that's why I write books because I would hate to make movies and but inevitably then when you take a book and turn it into a movie you you know you you change it into something else and you know that's sort of a mystery to me is interesting è un argomento affascinante diciamo che il film sono molto diversi dai libri e libri sono molto diversi dai film e che i buoni film rendono delle cose possibili che i libri buoni libri non rendono possibile viceversa dei buoni libri fanno delle cose che dei film non possono fare a volte ho avuto dei problemi con questo per esempio in uno dei miei romanzi Andorra mi sono messo in testa di scrivere un libro che non potesse essere trasformato in un film perché era un libro che si basava totalmente sul linguaggio che come sapete si sfuma nel momento in cui si trasferisce in un mondo cinematografico ci ho detto, tre dei miei libri sono stati trasformati in film e ogni volta sono rimasto un po' disilluso come scrittore io visualizzo, moltissimi scrittori visualizzano ma io sono il regista, sono il costumista mi occupo delle luci, mi occupo delle scene controllo tutto ciò che succede se decido che piove, piove se decido che faccio una scena con mille comparse ci sono mille comparse ma invece questo è diverso nel momento in cui poi qualcuno ne fa un film ed è per questo che io scrivo è un mistero per me quello che succede quando si prende un libro e lo si trasforma in un film è interessante perché io penso che uno dei miei favori di direttori è Eric Romer, il French director e lo che mi piace sui film è che le persone sono so dependenti di dialogo e relazioni e le persone parlano a loro a lunghe, non è solo un secondo è interessante per esempio a me piacciono molti film di Romer lì ci sono dei dialoghi ci sono dei rapporti non è che sono dei dialoghi brevi la gente parla, parla a lungo parla dei tipi di rapporti che ha scambia delle parole ne scambia tante so che ci sono delle persone che trovano che i film di Eric Romer sono dei film un'esperienza cinematografica non gratificante che lascia molto a desiderare a me invece piace molto però è un po' un mistero di come si svolga questa cosa senti un'altra cosa che volevo chiederti era una caratteristica che è interessante è il fatto che quasi sempre nei tuoi libri è presente il tema dell'omosessualità ma non è praticamente mai come dire centrale nella narrazione ci sono sempre dei riferimenti anche in Coral Green ci sono in Coral Green siamo quasi a livello della semplice allusione cioè nel senso il lettore intuisce quello che tu vuoi dire ma è poco raccontato ma questo succedeva anche negli altri libri perlomeno quelli che sono stati tradotti in Italia volevo sapere se anche questa è una scelta precisa o se se è qualcosa che viene così spontaneamente cioè il fatto di in qualche modo non dedicare la narrazione a questo come tema centrale no no non è 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 live in, and it's a world with a lot of different kinds of people in it. I think it's really odd that people don't read books about heterosexuals and say, oh, there are heterosexuals in this book, why? And this book, Coral Glynn, people have been asking me, why did you write a book with a woman as a central character? And, you know, it seems like an odd thing to do, whereas I feel like I write fiction, and every time I write a book, I want to write about people who are not myself living lives that are not mine, and I don't understand sort of this idea that gender and sexuality is something that so separates people, where I feel, you know, there are lots of things that make us all different from one another, and gender and sexuality are just one of those things, and something that, and also sort of this idea that we should only be reading books that are about ourselves. I like to read books about people who are not myself, who are different from me. No, non è una scelta deliberata, ma devo dire che quando io scrivo un libro, scrivo un libro che riflette il mondo in cui vivo. Bisogna anche dire che se per esempio si scrive un libro sugli eterosessuali, o in cui ci sono dei rapporti eterosessuali, non è che qualcuno chieda perché hai scritto o non hai scritto un libro sugli eterosessuali, perché era centrale o non era centrale l'eterosessualità. Ma mi è stato anche detto, per esempio rispetto a Colglin, perché hai scritto un libro in cui la donna, una donna è il personaggio centrale, è strano, mi hanno detto. Io scrivo fiction, voglio scrivere non di me, ma voglio scrivere né della mia vita, ma voglio scrivere di altre vite. Il genere e la sessualità sono alcuni degli elementi che separano l'un individuo da un altro, ma non sono gli unici elementi che ci rendono diversi tra di noi. Non è che il genere e la sessualità escludono ogni altra differenza. E quindi io voglio scrivere dei libri sulle persone senza che, e penso che si possano scrivere questi libri su persone diverse da se stessi. Anche quando leggo dei libri, non è che voglio leggere dei libri su delle vite che sono come la mia. Also, I feel very fortunate as a gay male author, perché I feel, I started writing books fiction in the 1980s, and there are a lot of people who came before me, who wrote very, who were very brave and wrote very important books that allowed me then to write the kind of books that I write. And it was interesting, because when I first started writing fiction, if you were going to write a gay novel, it had to be about coming out, sort of. It had to be about the sexuality of the character had to be the focus of the book. And I just wasn't interested in doing that. And for me, I wanted to write books in which there were homosexual characters where the issue was not their homosexuality, it was the issue was their lives. I feel very fortunate. As a gay writer, I started writing in the 1980s, and there were many courageous people who wrote before me and who made it so that I could write in the 1980s the books that I wrote. Of course, if you wrote about fiction and you wrote with a character or of homosexuality or of homosexuality, it had to be for sure to describe the coming out. And the sexuality had to be for sure the center of this book. I didn't care about this. I didn't care about this. I didn't care about the person who are homosexuals for their homosexuality, but I can't care about the person who are homosexuals for other things that they do. I don't care about it. Senti, io ho una regola morale personale secondo la quale gli incontri di questo tipo non possono durare più di un'ora se no la gente sviene. Allora volevo chiudere questo incontro perché siamo arrivati all'ora. Volevo chiedere questo incontro sul fatto che tu sei anche un'insegnante di scrittura creativa. Volevo sapere se, basato sulla tua esperienza, c'è qualche consiglio particolare che tu dai ai tuoi alunni e qualcosa che puoi condividere con noi stasera. Sure. I mean, the two most important things that I try to convey to my students when I'm teaching is, first of all, the importance of reading. I know that my whole sort of writing life comes out of my reading life, and the only reason I write the books that I do write is because of the books that I've read. And sometimes I encounter students who don't seem very interested in reading, and that perplexes me. I don't sort of see how you get anywhere as a writer unless you're reading. And the other thing that I've discovered that's helped me in my life as a writer is that I think people often tell students if you're a writer you have to be disciplined, you have to write every day, it's a job like any other job. And I think, you know, that works fine for some writers, but I've realized that for me that's not at all how I function as a writer, that for me there are times when I should not be writing because I'm thinking and dreaming and getting to the next step. And that if I try and write during those times, I just write things that are bad, that I'm not ready to write, and I get more depressed and it just sort of stops the process rather than enhances the process. So I try and tell my students that I think it's very important to find and respect their own rhythms as a writer. And I also think there's this feeling sort of that everybody should be one thing, you know, you should be a writer, you should be a lawyer, you should be a banker, and I think, you know, I think people should be many different things and just because you write sometimes doesn't mean that's what you are and that's the only thing that you should be doing. Certo, ci sono due cose importanti che dico ai miei studenti. Innanzitutto che devono leggere, che devono leggere perché il leggere è ciò che nutre la scrittura. E io vedo che la mia vita da lettore che ha nutrito la mia vita da scrittore. E invece ci sono degli studenti che non leggo, non amano leggere tanto e questo mi lascia molto, questi studenti che vengono ai corsi di scrittura creativa e questo mi lascia molto perplesso perché penso che lo scrivere nasca dal leggere. La seconda cosa è che molte persone dicono che per scrivere è un mestiere un po' come un altro, bisogna avere disciplina, alzarsi ogni mattina, scrivere un certo numero di parole, ma per me non funziona così. Io so che ci sono dei momenti in cui scrivo e ci sono dei momenti invece in cui io non scrivo, in cui sogno, in cui elaboro e in cui se mi obbligassi a scrivere, scriverei delle cose che non sono particolarmente buone, anzi mi bloccherei nella scrittura. E ci sono altri momenti invece in cui scrivo. Ci sono poi persone che ti dicono cosa sei uno scrittore, un avvocato, un banchiere. Ci sono tantissimi mestieri che uno può essere, ma a volte può essere più di una cosa, può scrivere in alcuni momenti, può essere scrittore ma anche altre cose. Grazie, ringraziamo Peter Cameron.